Buongiorno amiche e amici di Volonvrite, siamo qui oggi nella giornata contro la violenza sulle donne ad Ingenio, bottega di arte e mestieri. Abbiamo parlato con Alessia Gramai, psicologa di Fior di Loto, appunto di questa realtà che si occupa della violenza contro le donne con disabilità. Quindi Alessia ti chiedo un po' di cosa vi occupate al Fior di Loto e in particolare perché è importante appunto trattare anche il tema della violenza contro le donne con disabilità. Fior di Loto è un progetto che è attivo dal 2014, ideato dall'Associazione Verba ma in convenzione in parte con l'ASL Città di Torino e in grossa parte anche col Centro Antiviolenza della Città di Torino. È un progetto che è composto di due parti, c'è un ambulatorio ginecologico accessibile per donne con ogni tipo di disabilità da una parte e dall'altra il secondo servizio è uno sportello specifico per donne e uomini con disabilità vittime di violenza. Averne parlato oggi a Ingenio sicuramente ha avuto un significato importante, Ingenio è collegato a Verba, al servizio passepartout, all'informa disabile perché in qualche modo condivide le persone con cui ha a che fare. Sono entrambi poi dei progetti del comune della città di Torino e nello specifico parlare oggi di violenza sulle donne con disabilità significa aggiungere una parte in più ai discorsi che già fortunatamente si fanno sempre di più in questi ultimi anni sulla violenza sulle donne. Le donne con disabilità vivono in maniera più importante alcune situazioni di violenza più che altro perché non si tratta solo di violenza di genere ma si tratta anche di violenza verso le persone con fragilità. E parlarne, conoscere la situazione e le caratteristiche della violenza sulle donne con disabilità significa in qualche modo poter dare anche delle risposte molto più adeguate, molto più complesse perché effettivamente le situazioni possono essere più complesse ma quindi di conseguenza anche molto più adeguate. E' quello che insomma il progetto Fiori di Lotto cerca di fare da ormai cinque anni e in qualche modo insomma i risultati ci sono. Penso che sia un progetto per quanto molto specifico comunque tanto importante. Grazie. Grazie Adelessia, da Ingenio è tutto, alla prossima. Grazie.